La prefettura di Teramo dà il via ad una campagna a tappeto contro le truffe agli anziani. In provincia nel 2018 si è registrato un aumento di questi reati del 13% con 243 casi. Nel 2017 infatti sono stati 214, mentre quest'anno siamo già a 102 truffe già effettuate. Saranno distribuiti così volantini nelle chiese e alle poste, che spiegano come difendersi da truffatori abilissimi che riescono a spillare soldi ai più deboli inventando situazioni inesistenti. Queste locandine che sono frutto di un'attività di coordinamento e di sinergia insieme alle forze dell'ordine e non dimentichiamolo insieme alla provincia che ci ha consentito la stampa di diverse migliaia di queste locandine e la loro distribuzione. Quindi partiremo con una distribuzione capillare nei luoghi più frequentati dagli anziani proprio per dargli delle indicazioni e per metterli in guardia e agire in via di prevenzione non solo con l'attività info-investigativa ma proprio con un'attività di sensibilizzazione richiamando l'attenzione degli anziani sulle possibili forme di truffa alle quali possono andare soggetti. Ma quali sono le tipologie di truffa più diffuse alle quali gli anziani non devono credere e subito segnalare alle forze dell'ordine? Una falsa telefonata di un congiunto conoscente che chiede di pagare un pacco per contrassegno. Il pacco viene recapitato a casa, il truffatore prende i soldi e il pacco è vuoto. Un falso poliziotto che annuncia l'arresto di un proprio caro e quindi una cauzione da pagare oppure una chiamata di un falso avvocato che chiede soldi per sistemare la difficile situazione di un congiunto che avrebbe avuto un incidente con l'assicurazione scaduta. Un fenomeno in crescita, nel 2018 abbiamo avuto un incremento oltre il 13% di queste truffe e ovviamente questo fa il paio proprio anche con il fatto che molto spesso gli anziani sono soli e dunque non hanno chi li mette in guardia nei confronti di certi fenomeni. Un'ultima raccomandazione da parte della Prefettura di Teramo a tutti gli anziani non date mai informazioni di carattere personale e familiare agli sconosciuti.